Buongiorno, sono le 9 del mattino a San Benedetto, 14 marzo, sabato. Questo video per testimoniare come facciamo ormai quotidianamente la situazione qui a San Benedetto in merito alla risposta della popolazione verso i decreti del governo sul coronavirus. Come vedete il traffico è veramente molto, molto limitato. Ovviamente oggi, sabato, un prefestivo, il traffico è sceso ulteriormente rispetto agli altri giorni, quindi la popolazione sta rispondendo in maniera diligente rispetto alle raccomandazioni e ai provvedimenti del governo. Tra l'altro, quelle poche persone che abbiamo visto andare in bicicletta o a piedi, la metà almeno indossa un'automobile. E' 44 secondi per vedere qui nella zona forse più trafficata della città la prima automobile.